Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 10 km di coda tra Valdarno e Firenze in Pruneta in direzione Bologna. In direzione Roma invece a causa del traffico intenso, code a tratti tra Aglie e Calenzano Sesto Fiorentino tra Firenze Sud e Incisa Reggello con code in uscita a Firenze Sud. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostiamoci sulla FIPI lì dove a causa ancora del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Cantieri di Firenze per lavori con scala aerea domani in orario 9.15 rimarrà chiusa a Via del Campuccio tra Via dei Serragli e Piazza Tasso. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!